Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video bomba perché andiamo a parlare di quello che è andato a rivelare Ben O'Connor sulla sua Van Riesel RCR. È uscito qualche articolo di giornale proprio su questo argomento dove Ben O'Connor è andato a dire che con la Van Riesel RCR ha detto che hanno fatto dei passi da giganti, il team Decathlon è G2Z proprio con queste bici e sono più impressionanti di quanto pensava lui. Negli articoli in realtà non c'è scritto tantissimo, sono andato a trovare la fonte dove O'Connor dice questa cosa, c'è un video che nei prossimi giorni probabilmente andremo a fare la reaccia, andremo ad analizzare nel dettaglio quello che è andato a dire perché sono usciti diversi spunti interessanti che neanche io sapevo. Io sono anni che porto le bici Van Riesel all'interno del mio canale, penso di essere stato il primo qua su YouTube Italia a dargli il valore che secondo me hanno e a dargli quell'importanza. E se non avete visto il video vi consiglio di andare a darci un'occhiata, soprattutto il video della RCR dove ne vado a parlare più nel dettaglio. Purtroppo non l'ho ancora provata, io ma spero di riuscire a provarla più avanti, oppure spero più avanti di portarvi un video recensione da qualcuno che la utilizza da tempo, ma questa è un'altra storia e più avanti. Vediamo cosa succede, andiamo a vedere nel dettaglio cosa è uscito fuori perché si va a parlare prima di tutto della Van Riesel XR. Non se ne è parlato ancora finora perché non è uscita ancora nel mercato, sono ormai due anni che l'abbiamo vista, bici che sembra un aereo a vederla, difatti anche O'Connor conferma questa cosa vediamo che nella sua bici lui utilizza un 5844 per il cronometro, se è il cronometro piatta utilizza direttamente un 60, le corone che utilizza sono delle corone carbon T e cosa interessante che in realtà tutti i team World Tour per i loro atleti di Puntafano sono le appendici da cronometro, la presa alta stampata in 3D infatti O'Connor rivela che già a novembre dello scorso anno gli hanno preso la forma del braccio per andare poi a creargli il manubrio da cronometro il manubrio da cronometro che è stato sviluppato da Swissight in collaborazione con Adeda Swissight che ha fatto moltissimo in realtà per queste bici, sia quella da cronometro che quella da strada perché ha studiato l'aerodinamica con loro, difatti O'Connor li nomina molto spesso, anche le ruote che danno al team sono le Swissight ovviamente qui sotto in descrizione vi lascio il link a tutte le Van Riesel RCR e vi lascio anche il link dove ne parlo più nel dettaglio e mi è venuto in mente di quando me l'avevano presentata a me, nei tessuti in galleria del vento, è risultata più aerodinamica non posso dire il marchio che era stato preso in riferimento, comunque immaginatevi la miglior bicicletta secondo voi da cronometro che c'è in commercio che ha ottenuto più risultati nel 2023, Dixier è risultata più aerodinamica direi ma ne parleremo forse più avanti e se questo video andrà bene guarderemo anche nel dettaglio quello che ha detto Ben O'Connor per tutti i vari dettagli che ha detto tipo grandezza dei copertoni, sella che usa, manubrio che usa, lo guarderemo poi nel dettaglio nel video dove ne parla ed ora andiamo a parlare finalmente della RCR, vediamo cosa ha detto Ben O'Connor la cosa più interessante che ha detto O'Connor, che è quella che secondo me dove si sono basati anche tutti i giornali è che questa bicicletta è tra le migliori top 5 o top 3 del World Tour, quindi una delle migliori biciclette in commercio e ha rivelato anche tutti i test che sono stati fatti in Galleria del Vento prima di trovare questa forma di telaio ha raccontato anche lui che Decathlon Van Riesel, in questo caso, prima di sviluppare questa, ha studiato tutti gli altri competitor ha studiato tutte le forme dei teleaio prima di arrivare alla forma che conosciamo oggi ha parlato anche di come è stata studiata la rigidità del telaio come sono state disposte le fibre di quanto studio c'è stato dietro prima di commercializzare questa bici e ha fatto vedere quanto è contento di utilizzarla e anche i risultati poi ne parlano, per quest'anno l'abbiamo visto rivincere dopo delle stagioni dove non è andato benissimo è partito molto bene già in Spagna, ha vinto poi all'UE Tour e lo stava addirittura vincendo e ora lo vediamo al Giro d'Italia, ma oltre a lui anche il team Decathlon Unicito Italia è andato molto bene quest'anno rispetto alle scorse stagioni, abbiamo visto Constrois vincere la Freccia del Bramante abbiamo visto Godon vincere la Romandia senza problemi quindi come ha detto Connor hanno fatto passi da gigante sui materiali lui ha accennato anche l'alimentazione che è un argomento a parte è un argomento anche fondamentale per loro per competere al meglio con tutti gli altri ciclisti del World Tour ma questa è un'altra storia e spero che questo piccolo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare la campanellina per rimanere ragionati su tutti i prossimi video e sapete che dopo ogni tappa del Giro d'Italia all'interno del canale c'è il resoconto della tappa con l'analisi della tappa successiva e l'analisi dei favoriti e detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima